ecco grazie perfetto Giorgia se c'è ogni tanto si guarda in macchina ecco grazie mi sta troppo avanti un attimo adesso ne fa uno più capricorno se inizio a fare la cosa non devo dire io leone sei leone hai messo a lì? ecco grazie qui al centro chi è quello là sotto? ma io non lo so grazie anche qui grazie al centro qui grazie Giorgia ecco Meloni grazie grazie mille ok grazie ragazzi facciamo le battute per minuti fermi tutti non c'è allora i fotografi ragazzi ragazzi adesso la roba lo diamo se volete ne facciamo altre adesso dici se volete 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 smettite qua ragazzi però mi rimetto piano così non si può fare ragazzi aspettate ragazzi che cosa? il simbolo eh me lo dovete riprendere è il simbolo se no spostiamo il non lato no no se no c'è aspetta un attimo grazie grazie quando siete pronti tutti me lo vediamo quando siete pronti quando siete pronti quando siete pronti vai ok ci sei vista? ci sei vista? ci sono grazie compra italiano compra locale è una campagna di fratelli d'italia per invitare i nostri connazionali a comprare per questo Natale prodotti italiani a comprarli nei negozi di prossimità significa ovviamente difendere le nostre aziende significa difendere la nostra identità significa difendere i posti di lavoro di milioni e milioni famiglie italiane su tutto il territorio nazionale i militanti di fratelli d'italia hanno allestito e allestiranno fino a Natale dei gazebo con i quali eh chi compra prodotti italiani nei negozi di prossimità potrà vederli impacchettati con una carta regalo che è il titolo della nostra campagna compra italiano compra locale e il titolo della nostra campagna si 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 Grazie.